E' stata una telefonata anonima alle 22 di ieri sera a segnalare alle 112 della compagnia Carabinieri di Gallipoli la presenza di un fusto per combustibili, con all'interno un cadavere nelle campagne di Gallipoli, nella zona agricola prossima a Via Gandhi, vicino al cimitero e ad un supermercato. Sulla base delle indicazioni, i militari dell'arma verso l'1.30 hanno trovato un bidone di colore verde adagiato in posizione orizzontale, coperto da rami secchi, la cui estremità era sigillata con pietre e cemento. Con l'ausilio dei vigili del fuoco di Gallipoli e del personale della sezione rilievi del reparto operativo dei Carabinieri sono state tolte calce e pietre ed è stato estratto dal fusto il cadavere saponificato di un uomo di corporatura magra e di altezza media. I Carabinieri hanno subito informato del ritrovamento il magistrato di turno alla procura di Lecce e la direzione distrettuale antimafia. Insieme ad un magistrato sul posto è intervenuto un medico legale per una prima ispezione cadaverica. Il cadavere è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per eseguire l'autopsia e risalire alla data della morte dell'uomo alle cause e alla sua identità.